Un saluto a tutti e bentornati su Zat Factor Allora, in questo video andremo avanti con la storia dove l'avevamo lasciata Esattamente dopo aver sconfitto la squadra Gini Penso ci sia Freezer adesso, penso Esatto Esatto Che tristezza va davvero Che tristezza va davvero Che tristezza va davvero Che tristezza va davvero In effetti mi ricordavo che, sì, riprendeva totalmente Locco prima di andare lì, però vabbè. Eccolo qua, che arriva l'eroe. Eccolo qua. 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 Perca porco diavolo. Eccolo qua. 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 Perchè c'era neanche lui! C'è un bel poc ! Il m'a dit qu'il faut! Il m'a dit qu'il faut! Il m'a dit qu'il faut! Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit qu'il faut! 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 È andato con la camera m'a! Che cazzo! Ok, energia sferica! Questo son dal suo. A un bnd! Il mt foc! Nel caffè del caffè Sì, è vero. Otonasciko cokyou no hoshini kairamii, to... Siiii? KONDO A SHINUKAM MEI! No! Siiii, grande! Eh, vai! Ce abbiamo fatta! Ok, piace! Sì, ora continuiamo a proseguire! Oh, che fatica però, ragazzi... A vero, a vero S-Sonda... Piccolo-san! Un pezzo, non so, non so, non so! S-Sonda, non so! S-Sonda... Ma questa invece è bella! S-Sonda, non so, non so! S-Sonda... 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 E vabbè ma cavolo non riesco a far niente E vaffanballe l'ho mancato Fatica sto pezzo ragazzi Massima potenza Attuale quello che abbiamo fatto nel tutorial non tutorial E quindi finora hai rischiato di morire senza non stare la tua vera forza E vabbè ma stessa Alla prossima! Ma vaffanculo si è riparato. E vaaaaaai. Questa è la prima. Bebbra, ma io voglio. Ma... cosa? C'è quello? Sì! Sì. C'è qualcosa di fatto? Se lo scusate, lo scusate. C'è stato detto così. C'è qualcosa che non è venuto? Sì. C'è qualcosa di più difficile. C'è qualcosa di più difficile. C'è qualcosa di più difficile. C'è qualcosa di più difficile? Sì. Sì. Sì, queste due gambe sono state hanno fatto un percorso. C'è qualcosa di più difficile. C'è qualcosa di più difficile? Sì. Hai molto più difficile da fare. C'è qualcosa di più difficile. C'è qualcosa di più difficile? Ok ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se si commentate Mettete un like O iscrivetevi al canale Un saluto a tutti E alla prossima Grazie